E' stata una tragedia che ha colpito Napoli nel cuore, poliziotto municipale ammazzato, un altro in fin di vita, altre due persone morte, un cuoco di Arzano che lavorava nella nostra città, due poliziotti feriti, un carabinire, un pensionato, uno studente, una vera e propria aggressione criminale all'intera città. L'amministrazione comunale di Napoli ha pagato un prezzo altissimo con la morte di un capitano della polizia municipale che a mio avviso e a nostro avviso è morto da eroe perché ha avuto coraggio e non ha avuto paura. Poteva scappare e invece mentre Muro lo sparava con un fucile a pompa, lui si è messo davanti al fucile cercando di fermarlo ed evitando che altre persone potessero essere ammazzate. Quindi è un comportamento eroico che fa onore alla nostra comunità e al corpo della polizia municipale. Quindi è una giornata veramente tragica e ricordiamo appunto che oggi la città di Napoli insieme alla città di Arzano è attraversata appunto da questi due funerali così struggenti e così dolorosi e così partecipati. Tutto nella vita si deve fare in modo di evitare perché ogni cosa potenzialmente evitabile. Qua la riflessione che mi sento di fare è una riflessione che facevo anche quando svolgevo le funzioni di magistrato. Troppe armi nel nostro paese sono troppe armi che vengono secondo me date con troppa facilità. Il tema è questo. Date con troppa facilità e non c'è un controllo doveroso durante l'arco in cui una persona riceve il porto d'armi. Quindi credo che una riflessione che lo Stato deve fare nelle sue articolazioni è questa. Perché lì ci troviamo di fronte a una persona che comunque aveva una serie di armi legittimamente detenute e poi addirittura armi che non possono che essere prese da fonti di tipo criminale. Poi nella dinamica con cui è accaduta, nel momento in cui è esplosa la follia criminale, io credo che là non si poteva far altro. Anzi, diamo atto che le forze dell'ordine sono intervenute, hanno sparato, persone delle forze dell'ordine si sono frapposte e hanno pagato un prezzo altissimo. C'è chi è morto, chi lotta tra la vita e la morte e chi è rimasto ferito, seppur non gravemente. Abbiamo un carabiniere che rischia l'amputazione di alcune dita, altri poliziotti feriti che devono essere operati. Insomma, ovviamente è un attacco al cuore di Napoli con una follia criminale, devo dire, impressionante. Lo Stato deve riconoscere, ci sono le procedure che hanno il loro tempo, noi attiveremo la prefettura e attraverso la prefettura il governo. La dinamica è chiara, si tratta di persone che hanno dato la vita per difendere la nostra comunità, eroi civili a cui va dato il massimo riconoscimento da parte non solo del Comune di Napoli che scontato, dello Stato, perché qua ci troviamo di fronte a una tragedia che assume dimensioni che vanno oltre la città di Napoli.